L'UGL consegna una targa alla direttrice generale dell'ASL Maria Morgante, un gesto simbolico per rendere omaggio a tutto il personale che in questi mesi in prima linea ha lottato contro il Covid. La piccola cerimonia si è tenuta nella sala pastore della sede di Via degli Mbimbo ad Avellino, a consegnare la targa il segretario provinciale del sindacato azzurro Costantino Vassiliadis. Sulla targa si legge con la più viva riconoscenza per quanto è stato fatto con spirito di servizio e umanità in favore della comunità irpina. Ringrazio l'UGL per questo gesto simbolico ma importantissimo proprio perché come hai detto tu rappresenta un riconoscimento a quello che è il lavoro che tutti i personale sanitario e non associazioni ma anche l'attività che hanno fatto i comuni attraverso i sindaci in quanto massima autorità sanitaria che in questo periodo è stato essenziale il lavoro sinergico tra noi e loro. Per Maria Morgante è stata anche l'occasione per fare il punto sulla campagna di vaccinazioni che a breve partirà anche in Irpinia. I primi di gennaio partirà la campagna vaccinale per il Covid. Come tutti sapete partiremo dal personale sanitario e non. L'invito è a che tutti si sottopongano alla vaccinazione che rappresenta in questo momento l'unico mezzo, l'unico strumento, l'unico vaccino che può in qualche modo farci uscire da questa situazione di emergenza. Quindi noi inizieremo come personale sanitario e quindi rappresenteremo anche un esempio per tutti e quindi spero che quando entreremo nella seconda fase il nostro esempio sarà esempio per tutti e quindi si avvicineranno tutti alla sottoposta alla vaccinazione.